Contessa, ai bagni di Aldo, han fatto uno sciopero per i quattro bagnini, volevano pensi la pausa a panini, e han spaventato tutti quanti i bambini, e quando è arrivata la guardia costiera, i quattro bagnini hanno un lato più forte, di acqua salmastra non trilo, te tot, non c'è più merenda per i bimbi, Contessa.